Il tifo di Bari ha già messo da parte la certezza di poter entrare in Serie A dalla porta principale ed è pronto a vivere i play-off. In pole position la certezza è maturata al termine del pomeriggio di Modena dove davanti a 3.300 tifosi del settore ospiti, numeri record in stagione, chi dire compagni non sono andati oltre l'1-1. Stesso punteggio che 5 giorni prima era maturato contro il Cittadella al San Nicola con modalità simili. Bari che parte a giri lenti passa in vantaggio manziché premere sull'acceleratore prova a gestire senza risultato. Una giocata su pale inattiva aveva griffato il pareggio del Cittadella, un calcio di rigore a difesa schierata ha permesso a Diaú di rispondere a Ricci e al Braglia, il tutto mentre il Genoa non perdeva colpi festeggiando il salto di categoria. I verdetti della 36esima giornata permettono però a Di Cesare e compagni di avere due certezze, quella di potersi concentrare sui play-off al via a fine mese ed ipotecare il terzo posto conquistando almeno un punto nelle sfide contro Regina e Genoa. Test utili anche per riportare al massimo della forma chi vive un periodo di appannamento e ritrovare anche quella percentuale di inconscienza che ha caratterizzato la prima parte di campionato. perché se è vero che con il terzo posto la Serie A nei play-off sarebbe alla portata con quattro pareggi è altrettanto vero che la gestione del punteggio non è nelle corde di questa squadra e le tappe stagionali lo hanno confermato.